Vlog day del mio venerdì senza i bambini. Ovviamente non si può cominciare la giornata senza un buon caffè latte, io non bevo il caffè, ma solo il caffè latte. Dopo di questo mi dedico all'attività fisica, ultimamente ci sto dando davvero dentro, il tapirulano è stato un ottimo regalo, quindi 40 minuti tapirulano e ovviamente doccia e skin care. Dopo essermi sistemata mi vesto e sono pronta per l'unica e sola consulenza che ho quest'oggi. Sto parlando in questo momento con una mamma che ha il bambino di due mesi e che sta attraversando uno scatto di crescita. Assolutamente non aveva idea di che cosa fosse, si è molto preoccupata perché il suo seno era molto morbido e pensava di non avere più latte. Quindi abbiamo fatto un recap della situazione e abbiamo rassicurato questa mamma che sta andando tutto bene e su come si doveva comportare in questo periodo. Finita la consulenza, è arrivato il momento di pranzare, anche se non l'ho ripreso, ho pranzato con mio marito, abbiamo mangiato pollo e spinaci con un po' di pane. Ho sistemato tutta la cucina e ho anche rifatto il sapone per i piatti che mi era finito e anche il sapone per le mani nel bagno che non ne avevo più. Questi sono i prodotti di Everdrop che vi avevo fatto vedere e sono semplicissimi da usare, io mi trovo molto bene. Eccoci qua, poi pulisco un pochino tutta 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 la casa e passo anche la tineco dappertutto. Qualcuno di voi me l'aveva chiesto? Sì, mi sto trovando bene. Non uso quasi più l'aspirapolvere, cioè devo dire la uso solo dove è veramente quella piccolina quando mi serve per raccogliere le briciole. Per il resto per pulire i pavimenti uso sempre questa e raccoglio i peli di biscotto che è una meraviglia. Tutto il resto del pomeriggio invece lo passerò a cucinare perché o stasera o domani mattina parto per il lago. Quindi per prima cosa preparo la pizza ma tutto il resto che preparerò ve lo farò vedere poi in un altro video. Io vi saluto, ciao a tutti!